Tutti i giganti che dobbiamo affrontare, dobbiamo farlo con coraggio, con e nonostante, sebbene, le nostre paure, le nostre debolezze. Non lasciamoci sopraffare dalla paura, ma ricordiamoci questo. Voi, dice l'Apostolo Paolo e i Romani, non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione con il quale noi possiamo gridare, possiamo confidare, a grande voce, con certezza, Abba, Padre, Padre. Forse avrete sentito dire questa frase, noi siamo quello che diciamo, noi siamo quello che pensiamo. Se noi pensiamo di non farcele, noi ce la faremo. E questo umanamente è anche vero umanamente, ma per noi in modo particolare. Se noi pensiamo che Dio per una tale situazione non è in grado di poterlo fare, allora Lui non lo farà, perché è la nostra mancanza di fede che non Gli permetterà di operare. Tutto parte dal nostro cervello, parte dalla costruzione della nostra mente, come abbiamo costruito la nostra vita nelle nostre esperienze. Noi siamo quello che pensiamo, Dio è quello che noi pensiamo, quello che Gli permettiamo di essere nella nostra vita. Potremmo anche conoscere la parola di Dio a memoria, potremmo essere consacrati, potremmo essere assinti frequentatori di chiese, della chiesa, suonare, cantare, predicare, essere pastori, tutte cose buone, ci aiutano ad avere una qualità di vita spirituale migliore. Ma se vogliamo avere la vittoria, dobbiamo usare il nome dell'Eterno, dobbiamo usare il nome di Gesù. Quindi invece di concentrarci su come, su come risolvere il nostro problema, concentriamoci nel nome dell'Eterno. Concentriamoci in quello che il Signore vuole fare, conosciamo la Sua volontà. Certo, il male è ancora lì, il problema è ancora lì. Qualsiasi tipo di problema di salute economico, familiare, qualsiasi problema tu possa avere, fratelli o sorella questa mattina, prendilo. Prendilo d'impatto è più forte di te, sicuramente è un gigante che da solo non riuscirai a vincere. Ma questa mattina ti chiedo di mettere la mano nella tua bisaccia, di non prendere il sasso del coraggio o della tua umiltà, della tua umanità, delle tue esperienze, della tua degnità, su tutte cose umane. Ma prendi il sasso del nome dell'Eterno, lancialo ed egli ti darà vittoria. A presto A presto A presto Grazie a tutti.